ma bello che ti sento andati qua su un nuovo video e andiamo a fare la reaction di bologna juventus che sempre valida per la serie a e partono proprio in questo momento con una grandissima nebbia che ricopre lo stadio e partiamo già bellicari che siamo qua sotto l'aria mamma mia morata innamorata che gol che ha fatto innamorata mia già belle partenza così 1 boom goal via 1 a 0 e di nuovo palla al centro è stato proprio sangue fredde morata lì imbucata e via proprio passare sull'esterno mamma mia che gol che ha fatto morata già proprio eccezionale li vedo belle cariche quest'oggi siamo di nuovo sotto l'aria che hanno provato già hanno riprovato lì sotto mica mamma mia che salvataggio che ha fatto stiamo rischiando che ha provato una rovesciata anche adesso si è svegliato si è svegliato il bologna si è nato il bologna mica mica no qua guarda come l'ha fatto passare quest'altro dai dai facciamo un altro per stare in sicurezza dai un altro proprio così in scioltezza quadrato che gol che ha fatto tutti i baletonski mamma mia da fuori aria e 2 a 0 e andiamo a casa così dai che siamo di nuovo sotto l'aria del bologna dai che ci siamo così vi voglio come uscita mamma mia come uscita mamma mia che cattiveria così vi voglio così così belli carichi non si vede più niente qualche c'è più nebbia che campo tra un po ragazzoli belli siamo ancora in centro quasi il 3 a 0 proprio la messa lì proprio bella balla così belli cattivi voglio così 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 cattivi cattivi abbiamo ancora la palla noi ancora la palla noi dai dai non vedo più niente niente fuori 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 va bene finita è finita mamma mia c'è stato con un attimo del bologna che ha avuto un attimo uno sprint un po di sotto l'aria ma 2 a 0 belli cattivi belli gagliardi così si fa ci vediamo poi a un prossimo video rimanete collegati balla Grazie a tutti